Ciao a tutti ragazzi bentornati sul canale MarioTedo, oggi siamo su Minecraft e andremo a vedere 5 seed particolari della nuova versione 1.21 Che cos'è il seed? Il seed è un valore che identifica il mondo Minecraft Slash seed e vi darà questo valore che è il vostro identificativo del vostro mondo In questo modo creando una nuova partita con l'inserimento di questo seed ci ritroveremo lo stesso mondo Ok ragazzi partiamo subito ve ne mostrerò 5 Il primo vi farò vedere come inserirlo e poi partiremo direttamente con gli altri Andiamo nella creazione della nostra partita nella sezione mondo e qui andremo ad inserire il seme del nostro mondo Dopodiché facciamo crea nuovo mondo Ecco il primo seed che vi mostrerò oggi Come vedete è una piccolissima isola praticamente deserta Tutta circondata dal mare quindi risorse praticamente zero Difficile iniziare qui una partita Come vedete c'è non c'è nulla c'è qualche relitto sicuramente Si ma non si vedono alberi non si vedono risorse Una partita che inizia subito in salita ragazzi Però in Minecraft le difficoltà sono le cose migliori Ok ragazzi passiamo al secondo seed Eccoci qui ragazzi nel secondo seed che vi mostrerò oggi Come vedete rispetto al precedente abbiamo montagne alberi Abbiamo sicuramente più risorse rispetto al seed precedente Guardate che bellezza questo mondo ragazzi Ci sono montagne cascate E che dire molto molto carino Ok ragazzi vediamo pure qui c'è un portale C'è già qualche baule Ok ragazzi passiamo al terzo seed Sempre della 1.21 Terzo seed ragazzi Vedete dove C'è il punto di nascita Incredibile ragazzi È un'isola praticamente Andiamo a vederla tutta Spettacolare ragazzi Guardate qui si può addirittura entrare all'interno Incredibile Siamo dall'altra parte No però sopra si Attenzione qua ci sono dei mostri Andiamo a vedere anche l'altro lato Di questa enorme isola No ma c'è di tutto qui dai Spettacolare ragazzi Spettacolare Ci sono anche i conigli qua dai Ok ragazzi Passiamo al quarto seed Questo veramente è molto molto interessante Qui sembra addirittura un teschio Guardate Gli occhi il naso Bello bello Ok quarto seed ragazzi E come vedete un paesaggio spettacolare Addirittura siamo circondati da montagne nevate E al centro una valle piena di ciliegi ragazzi Qui c'è anche una possibilità di uscita Che cosa è qui vediamo 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 E insomma è da lavorarci un poco E creare il mondo qui Non è affatto facile però La bellezza del posto c'è ragazzi Andiamo anche a vedere dall'alto Spettacolo puro questo seed di minecraft Addirittura ce ne sono altri nelle vicinanze Guardate Ok ragazzi Passiamo all'ultimo seed Per questo video Seed probabilmente Il mio preferito Andiamo ragazzi Eccoci qui ragazzi Ultimo seed Per questo video Il mio preferito Guardate qui C'è già una maggiore C'è Ci sono addirittura Due biomi C'è Un villaggio C'è Praticamente di tutto In quest'isola Materiali Animali C'è Praticamente Tutto ragazzi Probabilmente Il miglior punto Per iniziare La vostra Avventura minecraft Ok ragazzi Io nella descrizione Vi metterò Tutti e cinque I semi Che abbiamo visto oggi Naturalmente Nei commenti Potete dire Il vostro seed Preferito Io vi saluto Per questo episodio Vi ricordo Like questo video Iscrizione al canale E ci vediamo Al prossimo episodio Ciao a tutti ragazzi Ciao a tutti